E' andata in archivio la quarta edizione del Memorial, l'Arturo Volkan di Minibasket, categoria esordienti, torneo in ricordo dell'istruttore della PGS Trinacria Ciriale, prematuramente scomparso nel 2007, ma indimenticato e indimenticabile. La dimostrazione più lampante è la consueta mobilitazione attorno al momento del Memorial, che è di un paio d'ore, ma che ha alle spalle un motore di idee e di impegno non indifferente, e che palesa tutto l'affetto che attorno a sé lasciava ed ha lasciato, evitando che il tempo trascorso possa scalfirlo. Già dai primi incontri degli istruttori legati quest'anno al progetto Alfa, ovvero sotto legge della Polisportiva Basket Ciriale, I Centri, Cus Catania, Leonardo da Vinci, Prisma, C Sant'Antonio, C Catena Basket, San Luigi ed ovviamente PGS Trinacria Ciriale, l'idea del come e quando organizzare il Memorial è stata sempre tra i punti all'ordine del giorno. E così come è avvenuto quando si è iniziata la raccolta firme per l'intitolazione del palazzetto di Corso Italia, attorno al suo nome c'è stata subito condivisione e grande voglia di impegnarsi. Sono fatti e non semplici dichiarazioni perché spontaneamente tanti, anche al di fuori dal mondo del palonaspicchi, e in diversa natura, hanno voluto esserci. Come la Mic Basile 10 Sant'Antonio, che con il suo titolare ha regalato ai bambini, agli istruttori, ai mini arbitri partecipanti, la maglietta commemorativa con cui i minicestisti si sono giocati il loro torneo, o l'antica cioccolatteria cese che ha voluto omaggiare i singoli presenti con le proprie creazioni in cioccolato, nello specifico un gustoso Babbo Natale. Poi ogni singolo istruttore, coadiuvato dalla responsabile regionale mini basket, nonché responsabile del progetto Alfa, Valeria Puglisi, o chi si è occupato dell'intrattenimento come Marco Giardina, che di Arturo è stato allievo per tanti anni. Il presidente della Polisportiva Basket Cirale, Paolo Panebianco, il fratello Rosario, i dirigenti degli altri centri mini basket, Nico Torrisi, presidente della Polisportiva Alfa, l'assessore comunale a Cese Calì, tutti presenti, tutti vicini a questo momento di ricordo, nella gioia, nella festa che un torneo di mini basket può dare. Ed è proprio quello, il modo migliore per ricordare Arturo, il modo esatto in cui interpretava lo stare in campo, il fare l'istruttore, educazione alla vita attraverso lo sport e le regole della società, attraverso le regole del mini basket, in modo sempre gioioso. Come ha ricordato Valeria Puglisi nell'introduzione dal torneo, nei suoi inizi da istruttore, quando nelle partite sapeva di incontrare la squadra di Arturo, era ben consapevole che sarebbe stato non un contro, ma un con, leale, sportivo, bello. Importante ieri anche la partecipazione delle famiglie, perché legato al Memorial è il progetto Un Canestro per l'Africa, ovvero aiuto concreto alla missione di Santileir nella capitale del Congo, Kinshasa, presente a raccontare l'esperienza padre Santino Zanchetta, missionario che ha parlato ai bambini di questo a duplice valenza del progetto Scuola Sport e delle due squadre iscritte ai campionati cittadini. I mini cestissi si sono sentiti molto coinvolti ed alcuni di loro lo hanno anche espresso nel bigliettino distribuito sul significato del mini basket nella loro giovane vita. Insomma una mattinata davvero intensa, bella, dove l'aspetto prettamente agonistico ha lasciato spazio al sano divertimento, a ricordo di Arturo che deve essere sempre così come era lui, con il sorriso sulle labbra.